Ok, mi sono sfogato ragazzi, ne avevo bisogno perché non potrò urlare e parlare per tutto il video visto che è l'1.23 di notte Non sto scherzando ragazzi, l'1.23 di notte Sono pazzo, sto strarischiando ragazzi, non c'è nessuno con me perché Ragazzi, solo io sono abusivo, così tanto abusivo da registrare a l'1.20 di notte Ma c'è un motivo, c'è un ragazzo che mi ha pagato 5 Cioè, mi voleva pagare 50 euro per fare il provino Naturalmente non ho accettato ragazzi, non accetto soldi del genere Ok, se mi supportate con il super grazie, 2 euro, 1 euro, 5 euro, ok, l'apprezzo che ho supportato il mio lavoro E in più vi aggiungo come amici, lo sappiamo, no? Vi aggiungo come amici quando mi supportate con il super grazie Infatti questi ragazzi sono praticamente quasi tutti dal super grazie E vi ringrazio ancora Ma lui voleva pagarmi per fare il provino, per farsi vedere E non funziona proprio così, quindi non ho accettato La cosa bella è che era così sicuro di sé, è così sicuro di sé che mi ha detto queste parole Se non ti piaccio come players a fine video ti invio altri 50 euro Cioè, quindi mi avrebbe pagato 100 euro se non mi fosse piaciuto come play Raga, pazzesco, scusate se parlerò strano Ma non sono abituato a parlare con questi doni Sono stanchissimo, come ho detto E il lunedì passa, quindi sono stunnatissimo E se avete tutte queste cose ho pensato Allora, io lo voglio vedere questo players Vediamo com'è, se è così sicuro di sé E poi magari è un blef, una figuracce Il problema è che lui c'è solo la notte E tra l'altro non può neanche parlare Perché se no lo cacciano di casa Visto che ha 14 anni E si chiama Mongraal 2.0 Raga, cioè si chiama Mongraal 2.0 Invidiamolo e facciamogli il provino Raga, vediamolo, diamogli questa soddisfazione Ah, si presenta con uno Skull viola Si presenta con una skinno girarissima Costosissima, bellissima Una delle mie preferite Se non la mia preferita E i capelli biondi È un bug I capelli Da quando lo Skull ha i capelli biondi? Cosa sta succedendo ragazzi? Raga, ve lo dico da subito Sarà un video stradiverso dal solito Dal normale, senza troppo editing Senza niente di spettacolare Come faccio al solito Straditato Sarà un video chill Perché è tardi Sono stanco Mi sono preso anche una Coca Cola Per svegliarmi Hai il Cavaliere Nero per caso? Ho visto che No? Ah, peccato Non è finito il passo 1 Non è finito il passo F È brutta storia questa Brutta storia Sarebbe stato Hai altre skin no girare? Uh, interessante Allora ragazzi Ha 14 anni Probabilmente l'avrà comprato l'account Hai qualche kill? Non mi sia Hai qualche kill? Ok, no, quindi non è buggato Qua stanno fedendo Fammi vedere Tutto nel chill ragazzi Ma è biondo pure in game Ok Ok, l'hanno scelto È tuo? Ma quanto Ok, ok Per adesso Per adesso Mi sembra Ragazzi, non ho visto niente per adesso Quindi non posso dirlo Però Ricordiamo Noi siamo abituati a Tompy Cars Sela Mostruosi Livelli assurdi Quindi non posso emozionarmi uno Seconda cosa Non posso emozionarmi sul serio Perché ragazzi è tardi Quindi mi cacciano Bello Ok Ma ti dico alla fine la mia, no? Partiamo che tu sei così sicuro di te, no? Per i soldi e tutto Ok Ok, ci sto Bello, bello, bello Niente di spettacolare Ma molto concreto per adesso Sei molto concreto, fratello Lo sai? Allora, fai una cosa Spara un colpo se sei più forte in pubblica A due colpi se sei più forte in creative Un colpo È uno quello Quindi sei più forte in pubblica che in creative Sì Oh Ragazzi, è la prima volta che sentiamo una cosa del genere Quindi magari non sei spettacolare Sei solo forte Allora Si deve fare gli shield Almeno che non sia bugato Ma si deve fare lo shield Naturalmente non parlerò come il solito Porca miseria Mi duole Mi duole Mi duole veramente Perché dovrò parlare tipo Così Parliamo rallentatore Oh, non c'è un attimo Era un bot Era un bot Facciamo una cosa Hai detto che non sei spettacolare, no? Entra in safe E farmi vedere qualcosa Tanti materiali li hai Così dai, spettacolo per il pubblico, ragazzi Per il pubblico notturno Che tanto vedrete il video di giorno Quindi non sarà molto notte per voi Però fidate Ragazzi, non dico bugie L'1.30 senso se si vede L'1.30 se è qua L'1.30 se è qua Non si vede Però ragazzi, fidatevi L'1.36 adesso È l'1.36 Ok Sei veloce Cioè nel senso Non ti stai impicciando Vabbè niente A che vedere con Kars Errore di percorso Facciamo finta che non sia successo niente Ragazzi, il cinghiale ha distrutto Cioè il cinghiale, ragazzi Il cinghiale all'1.40 Non ha nient'altro da fare Ok, vediamo, vediamo ragazzi Metterò soltanto le kill Come ho detto nel chilling Con le giuste vibes Con la giusta musica Oh Ok, era quello che rompeva le scatole Vedi se è un pompa Vedi se è un pompa Ha bisogno di un pompa Sempre buggata questa skin Ma tu pure la vedi con il ciuffo No? Allora è buggata a me Ma che cacchio Non aveva il pompa Stava scappando questo Allora non siamo messi benissimo Ok, ok Ora siamo messi bene Fidati Ok Ragazzi c'è un problema C'è qualcuno con la macchina Non ha il pompa No vabbè ragazzi Cosa Io Per fortuna è una shockwave Devi giostrartela bene Ragazzi È un po' pure sfortunato È sfortunatissimo Anzi in realtà Mi fa strano parlare così Vi giuro Così di rallentatore Ma io mi sto addormentando Cioè cerca di fightare Cioè cerca di trovare un po' Per fightare Perché mi sto addormentando Ecco il pompa Fa schifo È però Io mi fullerei prima Con la splash No Lui no Ok Sta facendo scappare Ok l'avversario Ingaggia fight Fight ingaggiato Bello 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 è fatto anche il danno alla macchina Oh un cavaliere nero No regà Un cavaliere nero Contro scolviola Oddio 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 Ma è un cavaliere un po' pazzo Ma No non ci Non ci Finicilo ti prego Ha po' capita anche la macchina Finisci Ok ok Hai rischiato Hai rischiato Il cavaliere nero Non è stupido Ma scarso Cioè questo non giocava dalla season 1 Secondo me Ho un gral Sarò sincero Da quello che ho visto Ok mi avresti dovuto dare altri 50 euro Lo sai sì Me l'avresti dati Seriamente Raga Sono troppo onesso Sono troppo scemo forse Anzi Senza forse Raga ma quanta Ma perché sta ballando pure il lupo No cosa sta succedendo Uuuuh Free kill Free kill metto gli occhiali Raga perché Veramente sono stra stanco E mi do appassi il ventilatore Come al solito Comunque c'è qualcun altro Stai attento Perché erano in lupo Lui e in altro Che ballavano tutti insieme Ma come è una filastrocca Pushing aggressivo Ma come il lupo Ma come il lupo Ti ha pushato il lupo Ti devi pushare l'altro Ok Ho provato a usare il rampito Ma dai no Ma sotto La lobby è un po' strana Vabbè ma questo era un nabbo Era un nabbo Stai missando un po' di cose Non sei fluido Cioè nel senso Capite ragazzi Fatemi sapere anche nei commenti Non è troppo fluido Ok che li killa Ma sono avversari veramente scarsi per adesso Veramente veramente scarsi Ora il rampino Non ci sono scuse Quattro kill Quattro kill per il nostro school viola Dal ciuffo biondo Raga sembra me Cioè non adesso Ma quando c'è quel ciuffo uguale Io mi sono messo nel chilling Uuuuh Era fermo eh Però bello Cioè Che altro molto veloce sei stato GG Mi piacciono queste Applauso Applauso pure se è tardi Non posso farlo No 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 Questo miss non l'accetto Questo miss non l'accetto È morto Te l'hanno pure fregato Hai fatto un miss che non accetto Ok questo buscia Bello Ok ti ha preso il muro Stai attento ok No devo uscire Missi parecchi edit Missi parecchi edit Oh Oh No c'è un altro che spara Ma che Perché c'è sempre un altro In questa lobby 32 Oddio se ti riusciva Veramente l'ho fatto 32 Quest'anno cosa No 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 Questo l'hai preso Questo l'hai preso Cioè io l'ho visto che l'hai preso È impossibile No Ma è promissi Ok 96 Ho tutto da ricaricare Tutto da ricaricare Ok Ok Cosa Cosa No E niente Allora vediamo se te la capi Devi salire Devi salire In qualche modo Devi curare Fare gli cildini Ok 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 Cioè sei veloce Eccolo qua Ti prego Bello Raga Bello Questo dobbiamo ammetterlo È stato Molto bello Bella giocata Bella mossa Ma c'è ancora Terminator qua Terminator notturno No 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 Hai 63 di vita Ti devi fare gli cildini Ok Confondi l'avversario Ok 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 Vediamo se riesci a rientrare qua dentro Perfetto Siamo quasi sicuri Quasi al sicuro E il Terminator pazzo Mi sa che rimane in safe Poverino Aspettalo Aspettalo fuori safe È una cosa sul personale Ormai Ok Ok Vabbè ma è Ma è un scemo Ma no Raga è pure un insulto A Terminator Poverino Era proprio uno scemo Questo Raga sono rimasti in tre Questa è vettoria reale Una delle vettorie reali Più easy della storia Perché le avversari Non sono così tanto forti Questo stava nel cespuglio Ok si campera Come in season 2 Ma Ok che hai l'account oggi Ma Bello Bello Qua sono tutti i bot Uno contro uno Hai una shockwave Per pusharlo Questo è un po' pericoloso Un po' piromani Attento Attento un po' piromani Dov'è? Ok lassù L'ha giù L'ha premessa un po' male Stasso qui Però va bene Ok ma No ragazzi Io mi rifiuto Io mi rifiuto Di dare un voto al player Ok bravo È bravo Un player normale Lo farei entrare in academy Che ci fosse ancora l'academy Perché sicuramente può migliorare No ragazzi Ma che cacchio Ok GG 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 Per la vittoria reale Allora ti dico la verità Non sei male Pensavo molto peggio No? Per quanto Cioè ragazzi Per quanto la lobby facile Pensavo molto peggio Per la fase finale Ti direi un bel Niente 50 euro Grazie per la visione